buonasera siamo qui con ellie de mon ciao e innanzitutto la prima cosa che ti volevo dire che hai un nuovo fan ci sei piaciuta veramente molto e è stato chiaramente iniziamo mi gioco subito la carta da 90 ovvero quella del tuo ultimo lavoro è stato ovviamente un periodo molto difficile per quanto riguarda i concerti live però insomma tu hai lavorato abbiamo visto con questo lavoro che ci è sembrato veramente molto molto interessante una riscoperta un po del primo blues o comunque degli anni 20 ti sei soffermata particolarmente sulle blues woman ovvero sulle donne che fanno questo genere perché perché quest'idea oltre alla tua passione immaginiamo da dove arriva l'idea di di fare un lavoro così deriva dal fatto che la storia le ha un po dimenticate nel senso che vengono citate pochissimo sia nei libri che nei repertori quindi mi sono sentita un pochino di rendere omaggio a dei nomi che sono stati veramente cancellati dalla storia ci sono dei nomi che ovviamente sono famosissimi giustamente su cui sono stati fatti addirittura dei film però accanto a queste superstar ci sono anche dei nomi completamente cancellati e che secondo me invece meritano di essere riscoperti perché anche spesso le donne vengono dimenticate dalla storia si parla tantissimo di quello che hanno fatto gli uomini e in realtà c'è anche tutto un universo femminile che va riscoperto quindi accanto ai padri ci vogliono le madri tutto lì e proprio quando pensavamo un po' all'intervista tu parli di questo universo femminile la prima cosa che ho pensato è questa etichetta che ovviamente associano sempre al tuo nome che è one woman band e blues woman normalmente che sono declinate al maschile e stavo pensando proprio a questo pregiudizio di genere che magari nel linguaggio mainstream non è mai declinato al femminile anche se in inglese è facile anche declinarlo pesa un po' questa declinazione un po' al maschile allora intanto volevo fare una precisazione nel senso che mi definiscono blues woman blues io mi ci allora adoro il blues però credo di non fare io blues per un semplice motivo che non sono afroamericana e quindi come dicono loro voi bianchi non potete suonarlo perché non portate il fardello che portiamo noi sulle spalle e hanno ragione in più io ho un modo di stare dentro la musica che è molto diverso da un afroamericano il mio modo di stare sul tempo il mio modo di suonare non faccio parte di quella tradizione e quindi faccio un fatica veramente anche l'invidia un sacco perché io non ho quella capacità e quindi ecco io faccio più punk mettiamo così tu dici ecco e poi sì il fatto allora la questione di genere è sempre una questione complessa e ci sono tanti pregiudizi a riguardo e soprattutto in italia perché in italia si fa ancora molto fatica a parlare di di emancipazione femminile dobbiamo fare ancora tanta strada per quanto mi riguarda io per fortuna frequento ambienti dove c'è molto rispetto sono soprattutto in club circoli arci situazioni dove comunque appunto c'è c'è rispetto mi è capitato in ambienti più mainstream di sentire il peso del avere i capelli lunghi e essere sì una donna però sta tanto a noi donne non farci mettere i piedi in testa e far capire che non esistono uomini liberi se non ci sono donne libere contrario non ci sono uomini liberi se non ci sono donne libere non l'ho detto io questa cosa qui è una cosa che può sembrare banale ma che purtroppo è ancora molto lontano dall'essere reale almeno qui quindi sì c'è un po' di strada da fare ancora hai citato adesso la situazione una parte della situazione del nostro paese italiano noi abbiamo visto sappiamo che hai fatto anche tour in giro per il mondo in svariati stati del mondo ecco portando il tuo genere che abbiamo appena detto non chiamiamolo blues white blues se vogliamo c'è realmente una grossa differenza senti realmente una grossa differenza con il pubblico un qualche tipo di mancanza o così si dice che c'è qui in italia per quanto riguarda arrivare a questo tipo di musica che tu suoni rispetto magari a posti come possono essere gli stati uniti o tanti altri nazioni anche europei credo che l'italia non sia essenzialmente un paese tanto rock beh hanno vinto i maneskin a me stanno anche simpatici quindi chissà che le cose vabbè cambino un po però soprattutto il mio genere è un genere di nicchia che sia blues che sia jazz che sia rock comunque l'italia ha un altro tipo di attitudine verso la musica non voglio entrare nel merito di perché se ci entro sono un po pesantona faccio un po la maestrina della capero perché in italia manca un'educazione musicale di base e purtroppo se ne vedono i risultati solo vogliamo su questo argomento e diciamo com'è recepita la mia musica all'estero all'estero un pochino più facile nel senso che c'è un pubblico che tradizionalmente ascolta di più queste cose qua quindi sono più abituati qua in italia magari mi capita spesso di di essere vista un po come un fenomeno da baracone nel senso che magari suono e si fermano i curiosi che dicono ah sta deficiente che fa tutto da sola questo e poi vabbè naturalmente ho anche le mie soddisfazioni ho soprattutto tanti amici ho conosciuto tanti amici sulla strada qua in italia con cui sono legata parecchio e questo è una cosa preziosa e poi non so una cosa che percepisco molto e questa riguarda di nuovo la questione di genere è è che all'estero vengo vista solamente come una che suona non vengo vista come una donna che suona anche le interviste sono hanno spesso un tenore diverso nel senso che mi viene di rado chiesto com'è per una donna suonare ma non me lo chiedono praticamente mai mi chiedono magari ok chitarra suoni ma che differenza c'è fra la chitarra e un sitar nel senso vanno cose molto tecniche e credo che questo le dica lunga sul tipo di narrazione che c'è in questo paese nel senso che in questo paese siamo ancora fermi a dire per una donna non è facile fare certe cose no mentre all'estero è percepita come una cosa normalissima per cui spesso io appunto in italia mi ritrovo a rispondere a che differenza c'è per un uomo e una donna suonare nessuna siamo persone mentre ecco questo quindi sì la narrazione che c'è qui si coglie che è diversa comunque sei una polistrumentista che si presenta su un palco con tre chitarre sì ma lì è la tamarraggine perché io dico oggi sera non l'ho detto ma è una conseguenza dell'essere cresciuta negli anni 80 perché il mio imprinting è stato esatto per cui per forza cresci tamarro il sitar i cimbali vabbè la gran cassa una moltitudine di effetti e poi ovviamente il pezzo grosso che il bottleneck no ci puoi spiegare che cos'è sì allora in realtà il bottleneck nasce tradizionalmente come un pezzo di bottiglia bottleneck di solito di whisky che veniva appunto tagliato all'estremità e attraverso il quale si otteneva quello che è lo slide o quello che si infila io di solito allora c'è chi lo infila in questo dito qua l'anulare chi nel mignolo in base a quello che fai e attraverso lo slide appunto tu passi sulle 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 corde e hai questo effetto strascicato e di solito si usa con le accordature aperte ossia tu facendo così o tieni un accordo sulla chitarra e ti facilita molto fare delle cose modali delle cose più melodiche tu l'hai utilizzato per una dedica molto speciale a son house ah beh sì 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 è uno diciamo che son house mi piace ricordarlo perché è uno dei motivi principali per cui ho deciso di fare questo da sola perché vedendo lui per me è stato un esempio vedere lui poi veramente con quei suoi occhi diabolici e stralunati sì è stato veramente un esempio per me il salire su un palco da solito dire vada come vada io ho pensato un'immagine geografica però non prendetemi per pazza sono house delta blues mississippi possiamo parlare del bacchiglione blues cioè dei topi blues perché è un bacchiglione sì oddio eh il mississippi è sconfinato eh noi abbiamo un rigagno io sono nata dietro un fiume sono cresciuta dietro casa mia c'è un fiume un rigagnolo vabbè però sì mi piace pensare sempre alla connessione con l'acqua al fatto che tutto scorre eh la melma alle radici marce vabbè ecco mettiamola così e allora qui in esclusiva ce l'abbiamo avuta solo noi dallo stand di radio sharewood grazie mille ancora e complimenti e a presto e buon tour a presto sì grazie in bocca al lupo sperando di poter continuare a suonare grazie a tutti